numero 5 la telecamera wifi senza fili può essere installata all'esterno o all'interno con il set di viti in dotazione la telecamera utilizza due antenne orientabili per un segnale più forte e stabile quando il sensore rileva il movimento di una persona la telecamera invia un messaggio di allarme al telefono e registra l'evento anche al buio è garantita la visibilità fino a 20 metri trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 questa telecamera combina un design raffinato con funzionalità complete la telecamera offre una visione dettagliata e completa registra video e immagini in alta definizione copertura a 360 gradi il movimento delle persone viene rilevato in in tempo reale visione notturna intelligente il video di allarme sarà registrato completamente a colori con tutti i dettagli design elegante e resistente il microfono con cancellazione del rumore integrato rileva un audio chiaro e ti consente di ascoltare e vedere cosa sta succedendo nel tuo giardino o nella ta casa ovunque tu sia in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 3 videocamera di sicurezza in hd senza fili alimentata a batteria che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi grazie alla lunga durata della batteria la videocamera funziona fino a due anni con due batterie a litio incluse nella confezione il prodotto è realizzato per resistere agli agenti atmosferici ricevi notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento il montaggio è semplice non necessita di un'installazione da parte di professionisti compatibile con alexa ottimo prodotto trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 sorveglianza dall'immagine perfetta trasmissione in diretta e registrazione della sequenza in hd dalla nitidezza cristallina per osservare esattamente ciò che accade all'interno e all'esterno dell'abitazione sicurezza semestrale con una ricarica potrai prendere visione delle registrazioni in diretta a colori persino di notte per una visualizzazione nitida delle persone presenti nel luogo di interesse la tecnologia di rilevamento persone consente alla telecamera di rilevare in modo intelligente anatomia del corpo e struttura del volto la telecamera è impermeabile puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 videocamera con riflettore senza fili riprende ed illumina istantaneamente fino a 7 metri ingrandisce su dettagli importanti e cattura video a colori anche di notte connettiti allo smartphone per notifiche istantanee quando viene rilevato un movimento combina con un abbonamento arlo smart per migliorare le tue notifiche e ricevere avvisi specifici quando viene rilevata una persona o un veicolo nella confezione sono inclusi una batteria ricaricabile estesa un adattatore di alimentazione un cavo micro usb e kit e viti per il montaggio se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione